Ciao a tutti ChiCioti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft ita Allora.. Incri la madonna, ha sbagliato a cliccare peraltro Minecraft ita E' mancato per una settimanina ma ero in vacanza e non avevo modo di registrarlo infatti in questa settimana ci sono stati per lo più vlog ma so' potede perchè sono andati quasi tutti bene anzi ho ce lato meglio dell'altro ma ovviamente c'erano anche dei titoli un po' più accattivanti ed è normale così allora oggi minecraftita voglio fare una cosa che vi avevo pre anticipato che praticamente consiste nel labirinto ok ora che idea ho io per il labirinto voglio farlo dietro la casa ma questo lo avevamo già detto deve essere grande ma non grandissimo perché altrimenti stona con il mondo e questo lo avevamo già detto la cosa che non avevamo detto è che al centro di questo labirinto voglio metterci qualcosa altrimenti ha poco senso magari neanche proprio il centro cioè deve esserci un modo per raggiungere un qualcosa che è nascosto non deve essere per forza qualcosa di importante o che che dia troppa differenza capito al gameplay però insomma deve essere qualcosa di figo pensavo a una camera segreta non lo so di qualche tipo oppure un cavo dove mettere cose preziose ma poi è scontato non lo so magari fare una cosa tipo harry potter presente in harry potter che c'è il labirinto si chiama insomma c'è un labirinto è tipo quello in cui muore il tipo non voglio spoilerare magari qualcuno non ha visto harry potter può essere guardatevi harry potter se non l'avete visto praticamente in questo torneo 3 maghi di harry potter c'è un evento particolare che riguarda la schiusura di un uovo no e minecraft non ce l'abbiamo le uova abbiamo le uova di drago nella scorsa stagione io l'uovo di drago l'ho messo sotto la stata di un drago ed era fighissimo nella scorsa stagione quest'anno potevo fare questa cosa in stile harry potter in cui l'uovo anche se non è proprio fedele al film e al libro perché dove trovarlo tipo sott'acqua l'uovo però è brutto e poi non so ma così si può mettere sott'acqua l'uovo di drago lo mettiamo dentro al coso dentro il labirinto ora vi faccio vedere dove ho pensato di metterlo perché ho già studiato un po la posizione e ho già pensato un po i lavori che bisognerà fare perché c'è comunque da spianare una zona e fare le solite cose del caso c'è un'altra cosa però se lo faccio con tipo un mezzo altare è figo è fighissimo ma devo fare le pareti del labirinto ancora più alte tipo alte 4 forse anche più insomma deve essere una bella parete di foglie oppure se lo faccio sotterraneo basta una cosa alta 3 però rende meno quindi mi sa che andremo con le pareti giganterime di foglie per cui io dovrò fare un bordello di questa cosa che sto facendo ora cioè farmare foglie stavo pensando di utilizzare la farm di alberi però non aveva molto senso perché mettendo l'albero uno vicino all'altro praticamente non do la possibilità del tutto all'albero di crescere e quindi mi mangio un botto di foglie per niente quello è utile per farmare tanto legno per le foglie è molto meglio come sto facendo ora in tutto questo c'è un piccolo problema il piccolo problema è il seguente non ho più del bon meal non ho con me del bon meal oh mamma mia ho capito che l'abbiamo usato per fare la casa il pavimento e tutto quanto si è mai esagerato però dirmi che non ho più bon meal eh che barca prendiamo che barca prendiamo eh queste sono solo di bellezza prendiamo quella scura vola 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 la pe maia curu 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 turu tutu 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 toru ora stai cercando di venire da me sei serio cosa vuoi fare zio cosa vuoi fare no no torna qui torna qui torna ok ci siamo allora spero ce ne sia già un po' perchè non voglio rifare tutta la storia ti prego ok a quanto pare dovrò aspettare qui un po' per fortuna ho con me la mazza scheletri quindi magari nel frattempo riesco ad incantare qualche libro si ho 9 libri vai enchanting da manetta magari invece qualcosa di figo tralasciando il fatto che ho un botto di roba che non mi serve nell'inventario che butterò sotto quegli scheletri tipo questi fiorellini semolini questo questo ok e anche questo tengo lì così appena faccio partire il bottone muore tutto quanto con la lava allora libri vediamo sono a 34 livelli riesco a farne 2 file protection capirai insomma mica tanta roba 1 2 3 e prendiamo efficiency efficiency fa sempre bene per gli strumenti va benissimo perfetto 28 livelli che dire mi sa che devo aspettare un pochino ci vediamo tra poco ok ho preso un po' di livelli ho preso un po' di ossa uno stack 18 direi che mi bastano per quello che devo fare o almeno spero prendo ho sbagliato a prendere i lapislazzoli voglio fare un ultimo enchantment prima di andarmene luck of the sea che merda ah vabbè eh luck of the sea non è neanche male come incantesimo ma quello che dico io è che cazzo ci devo trovare io nel mare eh bacca boia vabbè raga fotte sega torniamo in superficie e andiamo di nuovo nella isola principale perché alla fine è comunque tutta un'isola quindi posso riferirmi ma tu sei ancora qui ma zio dai guarda sono gentile e ecco prendo fine alla tua sofferenza metto fine alla tua sofferenza mica io ultimamente c'ho proprio un fail unico con i modi di dire ti giuro raga mamma vi giuro ero eh eravamo al centro commerciale in Sicilia e ci fanno un'intervista prima di iniziare con l'evento e tipo mi fanno una domanda che non mi ricordo cos'è e ho detto raga ho detto da grandi doveri derivano grandi responsabilità quando in realtà la frase è da grandi poteri derivano grandi responsabilità ho fatto un fail della madonna vabbè ma capita cosa volete che vi dica poi è come se è come se perché doveri e responsabilità alla fine bene o male sono la stessa cosa no? quindi è come se io avessi detto da grandi responsabilità derivano grandi responsabilità caso sono Paolo Bitta e boia vacca comunque pensiamo a prendere le foglione anzi prima di prendere le foglie perché ci avrò un po' e quindi è piuttosto noioso a dire il vero vi faccio vedere dove voglio fare il tutto e come lo voglio fare anche se ho bisogno di eliminare qualcosa dal mio inventario perfetto tutti questi archi in realtà non mi servono che ne dici sono reso conto che io in questa casa insomma manco qualcosa mi manca qualcosa e quello che mi manca è un balconcino cioè posso usare un po' questa salita della biblioteca però comunque non arrivo là sopra quindi o metto delle scaline no no le scalinate sono troppo un po' nabbe semplicemente usciamo e andiamo sul promontorio anche se non è un promontorio perché non c'è il mare andiamo su sulla montagnola qui vai allora dove voglio fare il labirinto qui dietro era la mia idea originale ma non ha semplicemente senso perché dovrei tipo distruggere tutta questa montagna e non si può fare non si può fare no 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 quindi lo faremo lì in quello spiazzale lì che è come vedete abbastanza grande ci sono da fare qualche modifica cioè da spianare un attimo va fatto per forza perché il labirinto deve essere uniforme come livello non posso farlo semplicemente così piccolino perché altrimenti perde il misificato perché se sbagli la strada va a stare e prendi l'altra e arrivi a destinazione deve essere comunque oddio non sembrava tipo un pollo punk con il fiolino dietro vabbè non ho un secchio d'acqua peccato come ti era tre volte più facile pulire questa zona come grandi progetti che si rispettino prima di partire a fare questo labirinto devo sapere di che dimensioni sarà ok? quindi devo fare un progetto e come si fanno i progetti? con paint no no sto scherzando ovviamente no beh sì cazzo questo potrei farlo davvero con paint tanto sono pixel e devo fare le strade oh merda lo sto per fare con paint? lo farò con paint ok ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di paint lo sto facendo sul serio allora abbiamo bisogno di un rettangolo un quadrato non ne ho idea sinceramente oddio ce la faccio cosa? guarda riesco a fare anche la mia fila sono troppo un genio dicevo? parliamo seriamente no perché va solo così no ah dai che come dimensioni va bene anzi zoomerei anche un po' questo è il massimo che si può zoomare va bene allora facciamo un quadrato sempre se ci riesco ok non so se è un quadrato a me sembra abbastanza un quadrato ok ora partiamo dal presupposto che nel mezzo minca sembra molto più facile farlo su photoshop su photoshop dicevamo photoshop allora ehm zoomiamo un po' come vedete qua ci sono già i pixel che ci aiutano facciamo un bel quadrato dimensione un pixel ah andezio grande allora ok un pixel non va bene ok ora un pixel va bene mamma mia che cosa stiamo facendo raga allora facciamo un quadrato così siamo sicuri che è un quadrato di quanti blocchi sono? così sono solamente 16 blocchi però no facciamolo un po' più grande 24x24 non mi sembra malaccio come idea ok poi allora io farei una cosa di questo tipo qui nel mezzo un mini rettangolino anzi un mini quadratino e nel mezzo di questo quadratino o una statua o un qualcosa però aspe... aspetta aspettate perchè così non è dispari così è pari e l'uovo deve avere una... deve esserci un centro in questo labirinto e così non va bene cancelliamo minchia raga nemmeno gli ingegneri fanno certi progetti praticamente va tutto aumentato di un blocco in tutte le... anzi in due direzioni in modo da avere il... il centro quindi tipo da qui vado su e da qui vado a sinistra ora mettiamo in rosso il centro di questa cosa che dovrebbe essere tipo questo può essere in teoria dovrebbe essere questo il centro di tutto per essere sicuro tracciamo un attimo delle linee a caso uno ok si è il centro il centro perfetto attorno a questo centro dobbiamo farci tutto il coso allora c'è una cosa di questo tipo diciamo che così va bene non farò una statua metterò semplicemente l'uovo lì in mezzo e fin qua ci siamo ora bisogna costruire il labirinto bisogna costruire il labirinto quindi decidiamo quattro entrate per questa cosa non ne facciamo solo una non facciamo quattro entrate o due due entrate tra l'altro bisogna anche capire in che direzioni siamo mettiamo che il nord è qui mettiamo qui la n di nord quindi il nord è sempre verso l'alto va bene ci siamo e Grazie a tutti. Ok ragazzi, questo è il labirinto, è il primo labirinto che faccio nella mia vita, ok? In assoluto nella mia vita, non ho mai fatto un labirinto, però sembra carino, insomma, sono, se non sbaglio cos'erano, tipo, sono 25x25, io salvo il progetto immediatamente, torniamo in Minecraft e vediamo che dimensioni mi servono. Allora, 25x25, dov'è il Nord tra l'altro? Ah no, allora vedi, è proprio domani, nell'episodio di Sixteen Dice, farò una notazione su F3, no, sulle statistiche di Minecraft, che a quanto pare sono solo per quella mappa, pensavo avessero levato le coordinate, vabbè, però vedete nell'episodio di domani. Comunque, il Nord, il Nord, il Nord, il Nord è questo, quindi è azzeccato, l'ho azzeccato proprio alla grande, se il Nord è questo, sì, sì, perfetto. Allora, 25 blocchi abbiamo detto, prendiamo un attimo dei blocchi per segnare l'inizio e la fine del tutto quanto, 25 blocchi non sono pochi, e fin qua ci siamo, possiamo dirlo tutti quanti, dobbiamo capire bene come fare. Allora, 1, ok, questo è il primo lato e sono 25, e in effetti tanto piccolo non è, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, ok, possiamo cavarcela senza neanche troppi lavori, bene così, bene così, prendiamo subito la pala, che tanto abbiamo riparato l'altro giorno, e iniziamo a demolire un attimo la zona. Bello è che questo video si chiamerà tipo come progettare un labirinto o qualcosa del genere, e io, cioè, non so fare, questo, quello che ho detto, cioè, non so progettare un labirinto, non so neanche se questo labirinto sarebbe efficace, nel senso potrei farlo provare prima di far uscire il prossimo episodio, questo è più, no, dovrei farlo prima di farlo questo episodio, però non ce la faccio, perché il labirinto effettivo lo faremo nel prossimo episodio. Volevo farlo provare a qualcuno, però, ora che lo riguardo, in realtà, tanto semplice non è, cioè, è ben fatto secondo me, può essere complicato, in più ho messo anche due entrate, potrei addirittura sbarrarne una, così diventa ancora più complicato. Comunque, ovviamente, ci deve essere un po' di spazio tra l'inizio del labirinto e le montagnole, le collinette, che che sia, perché altrimenti sembra inserito tipo, con i programmi, come si dice, con MC Edit, e poi è brutto. Allora, c'è da fare un bel po' di spazio, in effetti, c'è una bella montagnola, così, all naturel, naturel, come in casa si dice, no, guarda, una bella collinetta, tutta la tutta naturale, e non basterà, perché qua è l'ultimo blocco che devo inserire, porca puttana, che palle. C'è sta roba? Ah, come si, è già, ha un blocco, ah, what the fuck? Eh, avevo un nome sta roba. Ah no, è terra, semplicemente. Non so perché, ma ho appena flashato male che, cosa sono questi pallini brutti brutti? Oddio, che brutto. Oddio, non riesco a non vederli. Oddio, no, mi fa impressione vedere i pallini colorati. Oddio, lì vedi i pallini argentati, non li avevo mai visti, oh mio Dio, mi fa impressione. What the fuck? Non me ne ero mai accorto. Oh mio Dio, pensavo fosse tutta marrone l'erba, la terra, insomma, quello. Mi sta venendo col piccino il cuore, raga. Oddio, no, sono, sono una di quelle cose che non puoi non scordare mai nella vita. Ogni volta che guarderò un blocco di terra, vedrò i pallini grigi. Oh mio Dio, che brutto. No, no, oddio, guardali qui tutti i pallini grigi. Vomito. Perfetto, allora, andiamo in cima alla collinetta qui, sotto casa, e vediamo com'è. Direi che ci sta. Direi che ci sta, lo sto immaginando con tutti gli sgirigori, non dovrebbe essere niente male. Andiamo subito a delineare il centro, tra l'altro, ci mettiamo sopra un blocco di questi qui. Allora, devo cercare il dodicesimo blocco, quindi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, aspetta. Ok, quindi il blocco centrale, te lo dico subito, è questo qui. Perfetto. Bene ragazzi, ma per questo video è tutto, soprattutto perché non ho abbastanza foglie per iniziare ora il labirinto. Ci vediamo nel prossimo episodio, in cui lo faremo, probabilmente lo completeremo anche, perché semplicemente dovrò seguire mano a mano il progetto che ho delineato su Photoshop. Vi ringrazioni di soluzione, con lasciare mi piace, se è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto, seguite su Twitter, Instagram, Facebook, e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao tutto, tutto, tutti.